Buonasera a tutti, da me, dallo zip e dal gatto starato, come qualcuno ha scritto sotto un mio video, sono qui per ringraziarvi per esservi iscritti in più di 500 al mio canale di YouTube e poi volevo dirvi un'altra cosa, se avete curiosità oppure volete dei tutorial sullo zip o su altri motori commentate qua sotto il video e cercherò dopo fine settembre di accontentarvi tutti. È tutto, un saluto dal gatto starato, dallo zip e da me. Alla prossima!